Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'appuntamento con Il Fatto. Stasera accendiamo i nostri riflettori sul passato, un passato che però è sempre da valutare nell'ottica del presente, probabilmente anche del futuro, perché la storia ci dà lezioni e noi queste lezioni a volte non le impariamo a fondo, o meglio, noi intesi come genere umano. Parliamo di uno degli episodi più bui della storia di questo paese del Novecento, a cento anni di distanza, riguarda Giacomo Matteotti. Lo facciamo con l'autore abruzzese di uno dei libri, dei saggi, che trovate in libreria inevitabilmente durante quest'anno, perché nel centenario spesso i personaggi vengono in qualche modo approfonditi, poi anche il giusto lasso di tempo perché gli storici facciano bene il loro mestiere, che ha una lettura del tutto originale. Salutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito il professor Enzo Fimiani. Buonasera. Fimiani, autore di un libro che è stato pubblicato ormai da alcuni mesi, che però sta portando in Italia in giro per tante tante recensioni e appuntamenti con i lettori. Libro che ha avuto già grande successo, mi pare che siamo alle varie ristampe, quasi introvabile, naturalmente invece si trova anche online, di una piccola casa editrice, di questo ci parlerà anche Fimiani. Il libro è un'idea di Matteotti e soprattutto è un'idea che è venuta dopo anni di studi Fimiani su questo personaggio, non necessariamente perché ne fosse il centenario, ma perché insomma c'erano tante letture di Matteotti e lei ha voluto aggiungere quella sua del tutto originale, mi pare. Sì, intanto grazie per avermi invitato, grazie al direttore Reteotto. Sì, ho provato, avevo qualche dubbio se scrivere questo libro o meno, perché sulla figura di Matteotti si esercitano da molto tempo alcuni mostri sacchi dell'astrografia italiana che a Matteotti magari hanno dedicato quasi una vita di studi, ovviamente, Mauro Canali che è stato qualche giorno fa qui a Pescara e poi Stefano Caretti, e quindi volevo scrivere un libro diverso, ho pensato o lo scrivo diverso oppure a poco senso non riesco a dire nulla di nuovo e così invece di lavorare strettamente sulla storia di Matteotti e in particolare su due eventi che ancora oggi rimangono un po' cardine anche nella nostra attualità che sono il delitto, ovviamente, l'assassino di Matteotti il 10 giugno del 1924 e poi il processo che, come tutti sappiamo, si è tenuto qui, il primo processo che si è tenuto qui in Abruzzo nella primavera del 1926 a Chieti. A me interessava invece quella che chiamo la seconda vita di Matteotti, perché la sua vita fisica, carnale è stata purtroppo breve, meno di 40 anni, ha vissuto una sorta di apnea, diciamo, Matteotti negli ultimi anni di vita come grande avversario, oppositore del fascismo dal 1919 al 1924 e poi però da quell'estate di 100 anni fa per Matteotti comincia ciò che noi mediamente non abbiamo, tutti noi abbiamo una vita, diciamo così, che poi rimane ovviamente negli affetti, nei ricordi parentali, amicali, ma insomma per un tempo relativamente breve, però qualcuno come Matteotti divide ne ha due e la seconda vita di Matteotti è molto lunga, come tutti sappiamo, dura da un secolo, è molto più lunga della vita carnale e per molti versi ci dice cose molto interessanti e anche per alcuni aspetti, diciamo, scivolose, anche inquietanti, cioè il fatto di come la memoria su Matteotti si sia in questo secolo sedimentata, sia stata costruita, sia stata diluita, sia stata mitizzata, molto spesso sia stata usata politicamente e così via, quindi mi interessava capire il Matteotti memoriale, oltre che il Matteotti storico, però per capire il Matteotti memoriale bisogna fare una cosa molto semplice che invece nelle celebrazioni, soprattutto quelle ufficiali, istituzionali, pubbliche, non viene fatto mai, cioè riportare Matteotti alla sua storia, perché storia e memoria sono due dimensioni strettamente interconnesse, benché spesso ai noi abbastanza divaricate e differenti, la storia di Matteotti sostanzialmente attiene a due dimensioni, il fascismo ovviamente, non c'è, potremmo quasi dire che non c'è fascismo senza Matteotti, il fascismo storico che abbiamo conosciuto e non c'è Matteotti senza fascismo e l'altro aspetto è il socialismo di Matteotti, cioè la politica in qualche modo, il suo aspetto ideale, che molto spesso viene messo in secondo piano per esaltare invece un Matteotti, e questa è un po' una delle interpretazioni di fondo del libro, un Matteotti mitizzato, un Matteotti eroe, un Matteotti martire, un corifeo della libertà con la L maiuscola e l'articolo determinativo, la libertà che non si capisce bene storicamente cosa sia, non esiste la libertà, anche Hitler diceva, abbiamo finalmente dato ai tedeschi, l'Hitler trionfante diciamo così della seconda metà degli anni 30, abbiamo finalmente dato ai tedeschi la vera libertà. Il lavoro che rende liberi in qualche modo. Anche il lavoro che rende liberi, eccetera, libertà è un concetto pericolosissimo. Però appunto viene fuori anche dalla lettura di questo libro un'idea dei paradigmi della storia in qualche modo, perché questo soprattutto è con la storiografia su Matteotti che l'ha molto interessata nello studio e nelle ricerche, è anche un paradigma della storia e della politica, vale a dire questo omicidio, perché di omicidio si è trattato con tutta una serie di aspetti che sono, ripeto, marginali come ha già detto lei rispetto allo spirito del libro, però insegna come la delegittimazione in qualche modo sia un espediente che nella storia si è ripetuto e anche il posizionamento della politica rispetto a determinati episodi sia una costante. Qualcosa che ci ricorda la contemporaneità, anche una lezione che arriva dalla vicenda Matteotti. Sì, direi di sì. Matteotti credo che abbia anche questa particolare caratteristica, è contemporaneamente attuale e inattuale. È attuale perché la sua storia ci parla della difficoltà nel gestire il dissenso da parte dei regimi non democratici, ci ricorda la delegittimazione dell'avversario politico fino alla sua uccisione fisica, quindi l'utilizzo, che è questo che ha fatto il fascismo, perché la violenza politica è esistita prima del fascismo, è esistita dopo ovviamente, ma il fascismo è il primo movimento che ideologicamente legittima la violenza come normale mezzo di risoluzione nelle controverse politiche. Quindi il mio avversario non solo lo delegittimo, come il fascismo ha fatto a lungo con Matteotti, ma a un certo punto lo uccido, gli uso violenza. Quindi questo ci ricorda, è attuale perché la gestione del dissenso anche all'interno delle nostre democrazie, che oggi conoscono una fase di difficoltà, di disagio, come sappiamo, è questione complicata. E anche adesso, in questi mesi, in queste settimane in Italia ce ne rendiamo conto, non è mai semplice. Invece è uno dei termometri da cui si misura la salute di una democrazia, la capacità di gestire il dissenso al proprio interno, che è connaturato alla democrazia, non c'è democrazia senza dissenso. Ma c'è una differenza tra la delegittimazione che avveniva costantemente in quel Parlamento che poi portò al clima, per cui vi fu intanto l'uccisione e poi anche la coltre di nebbia su Giacomo Matteotti e la delegittimazione che oggi viaggia su canali poco istituzionali, volendo andare oltre un po' il discorso, quella sui social, quella su altri metodi che sono al di fuori dei meccanismi della democrazia rappresentativa. Ecco, questo probabilmente è importante nel rileggere le pagine di Matteotti. È importante, naturalmente, sono d'accordo con la coscienza ovviamente che si tratta di fasi storiche, di contesti storici ovviamente profondamente diversi. Matteotti parlava davanti a un Parlamento che dopo le elezioni del 6 aprile del 1924, quindi due mesi dopo il suo assassino, era diventato un Parlamento fascistizzato in larga parte, naturalmente, non solo. Oggi invece questa delegittimazione, l'ingiuria anche politica nei confronti dell'avversario, eccetera, eccetera, viaggiano su altri canali. Ministri che vengono licenziati su Instagram. Ministri che vengono licenziati in qualche modo sui social, viaggiano su binari e informati profondamente diversi dal passato, ma sono tutte le nostre società che sono diventate ben più complicate, questo è il punto. Prima erano più semplici ovviamente, quindi gestire la complessità dell'oggi non è affatto semplice per nessuno, dagli vertici diciamo dei ceti dirigenti e istituzionali fino a noi cittadini, gli studiosi, bisogna fare i conti con un mondo che è enormemente più complicato del passato. Ecco, tornando al volume, qual è la lezione politica di Giacomo Matteotti consegnata alla storia della sinistra, ovviamente, del Novecento? Sì, qui riprendo ciò che dicevo prima, cioè che Matteotti è attuale per certi versi, ma anche inattuale, perché? Perché la sua lezione politica oggi possiamo dire che ahimè non è così, diciamo, compresa e diffusa nelle nostre società e nel nostro ambito politico, perché? Perché Matteotti era un politico serio, diciamo così, nel senso che Matteotti era un politico che non badava alle luci della ribalta, non faceva discorsi retorici, anzi non era affatto un retore, ho rivisto l'altro giorno la famosa scena di Franco Nero nel ben noto film di Florestano Mancini del 1976 che declama, possiamo dire, da grande attore qual era il discorso di Matteotti del 30 maggio 1924, ecco se guardiamo Franco Nero Matteotti non era per nulla così, aveva una vocettina un po' in falsetto, non era un grande retore, Matteotti invece si basava sui fatti, Matteotti prima di parlare in Parlamento studiava a lungo, quindi incalzava in quel caso il regime fascista sui fatti, sui numeri, sugli errori, sui limiti e molto spesso anche sulle corruzioni del regime, sappiamo che uno dei motivi che ha contribuito al suo sassinio è anche il fatto che Matteotti lavorava sulla corruzione del regime, quindi Matteotti è un politico oggi inattuale in questo senso, cioè ci insegnerebbe, se volessimo ascoltare la sua lezione, che la politica è una cosa seria, va fatta seriamente, studiando, lavorando, faticando sulle questioni e non magari sulle polemiche, diciamo così, mediatiche in senso lato, ma è inattuale anche per un altro motivo e quindi la sua lezione è doppia o in qualche modo tripla, perché Matteotti è una delle tesi del libro, modeste tesi del libro che poi sottopongo ovviamente al giudizio dei lettori e che Matteotti sia stato un personaggio scomodo per tutti, scomodo ovviamente per i suoi avversari o addirittura i suoi nemici politici, ovviamente il fascismo in primis, ma non solo il fascismo, tutto quel mondo filofascista che stava intorno al fascismo avrebbe continuato ad essere intorno al fascismo anche nella Repubblica, cioè durante la nostra democrazia c'è tutta un'Italia in qualche modo che guarda l'esperienza del fascismo con benevolenza, pur non essendo ovviamente ci mancherebbe neofascista in senso stretto, tutta questa Italia ha faticato durante il regime ovviamente, ma anche in questi 80 anni di Repubblica ha faticato assai per gestire la demora di Matteotti, che è una macchia, una colpa, un trauma, diciamo così, però Matteotti è stato scomodo ed è scomodo anche per le sue famiglie politiche, quelle dirette, i suoi compagni di strada, cioè il mondo diciamo così socialista e comunista, perché Matteotti ha lavorato per una vita, e c'è anche molto, per l'unità delle sinistre per opporsi al fascismo, è un obiettivo che ha clamorosamente fallito purtroppo, perché le scissioni ripetute nel corso del Novecento, ho scritto uno storico tragedia delle scissioni dal corpaccione originario del Partito Socialista, il più antico partito italiano, non dimentichiamo, che si sono succedute più volte nel corso del Novecento e hanno, come dire, dilapidato un patrimonio ideale politico, favorendo tra le altre cose ovviamente anche il fascismo, ma è scomodo anche per una serie di altri suoi compagni di strada collaterali che a Matteotti in vita non hanno mai guardato con simpatia, lo hanno osteggiato, lo hanno persino insultato ancor più dei fascisti che sono i privisi cattolici, se noi facessimo una schedatura dei giornali cattolici degli anni, dei primi anni venti, vedremmo come questi giornali riservavano a Matteotti insulti peggiori dei giornali fascisti e anche i liberali, lo stesso Benedetto Croce che di Matteotti non aveva capito praticamente nulla, insomma sono eredità scomode, soltanto dopo Matteotti è diventato un riferimento ideale anche per queste famiglie diciamo liberali cattoliche nella Repubblica. E ci vorrà la resistenza perché queste famiglie politiche poi si riuniscano e comprendano anche quanto sia stata importante quella lezione. Esattamente. Grazie, grazie alla professore Enzio Fimiani, naturalmente speriamo anche di avervi incuriosito alla lettura di un'idea di Matteotti, un'ultima, proprio una notazione sulla casa editrice, mi diceva prima a microfoni spendi, ha fatto piacere collaborare con loro. Sì, giusto, un'antichissima casa editrice che ha due secoli, si chiama Marietti 1820, un'antica casa editrice cattolica, cattolica progressista, poi fallita qualche tempo fa, riacquistata da un altro gruppo editoriale ed oggi gestita da un gruppo di giovani donne, tutte donne, mi fa molto piacere aver lavorato con loro e anche propagandare questo marchio Marietti. A tutti voi. Grazie, grazie a Enzo Fimiani, grazie ai nostri telespettatori, appuntamento domani alla stessa ora, arrivederci.